Secondo un sondaggio commissionato da Fratelli d'Italia, pubblicato nel dettaglio questa mattina dalla Quotidiano Il Centro, il presidente della regione uscente Marco Marsiglio ha nove punti di vantaggio sullo suo diretto concorrente in vista delle regionali del 10 marzo, Luciano D'Amico, candidato presidente per il campo largo del centro-sinistra. Secondo i dati, resi noti da MGD Ferente, su 7154 abruzzesi contattati solo in mille hanno risposto, consegnando un quadro sostanzialmente opposto a quello fornito dal sondaggio di qualche tempo fa del PD che parlava di un testa a testa tra i due candidati. Questo nuovo quadro politico a 50 giorni dal voto vede invece Marsiglio al 54,5% contro il 45,5% di D'Amico. Fratelli d'Italia primo partito con il 31%, Movimento 5 Stelle al 18%, PD al 15,5%. e dietro tutti al di sotto del 10% gli altri partiti. Il sondaggio offre una fotografia molto chiara della situazione politica in Abruzzo con Marsiglio che è in grandissimo vantaggio rispetto al suo sfidante per la corsa alla presidenza della regione Abruzzo. Un vantaggio di ben nove punti percentuali, il che vuol dire che il testa a testa ipotizzato dai dirigenti del PD non esiste assolutamente perché Marsiglio è in grande vantaggio. Così come il centrodestra che continua a crescere ed aumenta anche il risultato delle scorse politiche di ben sei punti percentuali e Fratelli d'Italia che si conferma primo partito d'Abruzzo. Tutti i dati che rispecchiano quella che è la situazione che si respira in giro per l'Abruzzo e dove c'è grande apprezzamento per il lavoro svolto da Marco Marsiglio, da Fratelli d'Italia e dal centrodestra e siamo convinti che tutto questo lavoro il 10 marzo porterà alla rielezione come presidente della regione Abruzzo di Marco Marsiglio.